48 capoluoghi fuori legge in tema di qualità dell'aria, maglia nera alla pianura padana, ma la Puglia non può dirsi di certo virtuosa, lega ambiente non fa sconti, anche se nel Tacco d'Italia nessun capoluogo supera i limiti di legge in quanto a concentrazione di polveri sottili, la qualità dell'aria proprio non migliora e le responsabilità sono da ricercare in particolare nel traffico e nell'assenza di un piano nazionale di intervento, lo dice l'ultimo rapporto malaria di città dell'associazione ambientalista che evidenzia un altro dato, l'aria peggiore la si respira proprio a Foggia, ancora priva tra l'altro di una rete di centralina di monitoraggio, centro città da mascherina protettiva con punti altissime di particolato e polveri sottili, da via Leofanto a via Le 24 Maggio, con le piazze centrali Cavour, Giordano e 20 Settembre, Corso Garibaldi, Via Arpi, Corso Giannone e Via della Repubblica e non va meglio anche nelle zone del centro storico inibiti al traffico e in quell'isola pedonale di recente istituzione come piazza Cesare Battisti, a dimostrazione che una rondine non fa primavera ma servono interventi ampi e strutturali. Senza adentrarci in sigle ed acronimi, basti dire che i livelli di inquinanti registrati in sole tre ore nelle zone citate sono il quadruplo della media giornaliera consentita. Le rilevazioni risalgono al 18 gennaio e anche se non sono stati calcolati nell'arco di 24 ore come prevede la legge, i risultati sono comunque indicativi dell'alto livello di inquinamento cittadino, che è problema sanitario prima che ambientale oltre le PM10. Legambienti ha infatti monitorato anche il particolato più piccolo, PM2,5, facilmente penetrabile nell'organismo umano e all'origine di morti premature. Anche qui i risultati sono sconfortanti. E, spiega Tonino Soldo, rappresentante su Foggia dell'Associazione Verdi, ormai è assolutamente indispensabile un sistema di monitoraggio in città. L'unica centralina Foggia oggi è quella dell'Arpa Puglia. Basta poi ad interventi spot come la giornata nazionale della bicicletta o del fermo auto. Si invece ad un rilancio del trasporto pubblico e delle forme di mobilità alternativa con l'ampliamento delle zone a traffico limitato e delle isole pedonali.